Voglio essere onesto con voi, sono preoccupato per la direzione che sta prendendo la nostra società. Ci sono 5 trend che si stanno verificando in questo momento che guardati nel loro insieme rappresentano una visione davvero terrificante del prossimo futuro. Iniziamo con i social media. Non so se capita anche a voi, ma ogni volta che concludo una sessione di scrolling su Instagram non mi sento bene. Non solo perché ho appena buttato 20 minuti a non fare nulla di produttivo, ma soprattutto perché alla fine ho passato il mio tempo a guardare quanto sono brave le altre persone, quanto sono belle le loro vacanze, le loro auto, quanto sono bravi in qualsiasi cosa facciano. Questo avviene perché nessuno vuole condividere le cose di cui si sente imbarazzato o in momenti negativi della propria vita. L'essere umano è in realtà programmato per cercare convalida e lo status sociale. E questo è il motivo per cui il 99% di ciò che vediamo sui social media è solo la parte migliore di un'esperienza. Lo facciamo perché i social media ci danno una gratificazione istantanea quando indirettamente sperimentiamo le parti migliori della vita degli altri. Ma la conseguenza di tutto ciò è che quando poi torniamo alle nostre vite reali, quando usciamo da Instagram o da altre piattaforme, ci sentiamo come se mancasse qualcosa. Altro aspetto cruciale riguardanti i social media è che ci danno la possibilità di riscrivere completamente le nostre vite. Se vogliamo sembrare dei grandi viaggiatori, pubblicheremo una foto di noi sdraiati su di una spiaggia con il pretesto che quello sia stato solo un giorno normale della nostra vita. Per mostrare quanto siamo avventurosi, magari pubblicheremo quel tramonto bellissimo che abbiamo visto facendo un'escursione in cima ad una montagna. Magari utilizzando qualche filtro per farlo sembrare più bello di quanto non fosse dal vivo. L'esempio perfetto ce l'abbiamo con TikTok. Il motivo per cui questa app ha così tanto successo è che fondamentalmente offre agli utenti un kit di strumenti illimitato per creare delle versioni di noi stessi più divertenti e belle. Questi strumenti in sintesi ci permettono di raccontare la storia che vogliamo raccontare per sostituire quella che abbiamo realmente vissuto. Se conveniamo l'idea di poter modellare noi stessi online con la sensazione che dobbiamo tenere il passo con la presunta bellezza della vita di tutti gli altri, è facile capire come questo in realtà possa renderci incredibilmente insicuri riguardo alle nostre vite reali, gelosi o semplicemente non così felici come potremmo essere. Di fatto, a caso dell'arrivo dei social media, siamo passati dal confrontare le nostre vite imperfette con le vite imperfette dei nostri conoscenti più vicini a confrontarle ora con una curata compilation dei momenti più perfetti di un bacino più ampio di persone. Questa è una battaglia che non potremo mai vincere. La seconda tendenza che ho individuato ancora più allarmante rispetto alla prima è quella del cosiddetto fenomeno di Eco Chambers, che in italiano potremmo tradurre in Camere dell'Eco. Quella delle Camere dell'Eco è una metafora per rappresentare una situazione in cui alcune informazioni, idee e credenze vengono amplificate, rafforzate e non più messe in discussione, mentre le visioni diverse o concorrenti vengono invece censurate o comunque sotto rappresentate. Cerchiamo di capire perché esiste questo fenomeno. L'obiettivo di tutte queste app non è mai allineato con il nostro. Le aziende tech lavorano incessantemente per mantenerci attivi sulle loro piattaforme il più a lungo possibile, perché è così che estraggono da noi il massimo valore. Il tempo che trascorriamo all'interno di un'app per queste aziende è fondamentale. Pensateci un attimo, qual è il modo migliore per convincere qualcuno a rimanere sulla tua piattaforma più a lungo possibile? La risposta è semplice, raccogliere più informazioni possibili sugli utenti ed utilizzare tali informazioni per fornire a questi utenti contenuti creati per loro, che matchano con i loro interessi e con le loro preferenze. Nel breve termine questo rende le nostre vite più facili in quanto abbiamo a disposizione contenuti che ci interessano e piacciono senza nemmeno doverli cercare. Ma a lungo termine le conseguenze sono molto negative. Facciamo degli esempi reali per capire questo aspetto al meglio. Facciamo finta di possedere un telefono vecchio e di volerne comprare uno nuovo. Ma siamo indecisi, non sappiamo se comprarne uno Samsung oppure Apple. Iniziamo a fare delle ricerche per confrontare i due prodotti ed apriamo YouTube. E dopo la prima ricerca ci imbattiamo in un video in cui qualcuno confronta i due telefoni affermando che il Samsung è meglio di quello Apple. Abbiamo guardato questo video fino alla fine e magari abbiamo lasciato un like perché il video di confronto ci è piaciuto e perché ci interessa sapere veramente quale sia il prodotto giusto per noi. Bene, col passare dei giorni YouTube avendo realizzato che ora abbiamo una preferenza per il Samsung ci considererà più propensi a fare click su altri video pro Samsung e ci inizierà a consigliare sempre più contenuti in cui si preferiscono prodotti Samsung a quelli Apple. E piano piano, senza che ce ne accorgiamo, questi contenuti inizieranno ad avere un impatto reale sulla nostra preferenza. Ci convinciamo a comprare il telefono Samsung perché su YouTube abbiamo visto altri 10 video a favore di Samsung. Magari pubblichiamo un post su Instagram o su Twitter con la foto del nostro nuovo smartphone. Iniziamo a seguire degli account di altre persone fan di Samsung fino al punto in cui gli altri sostenitori pro Samsung troveranno il nostro profilo ed inizieranno a commentare il nostro post. A questo punto i nostri risultati di ricerca diventeranno piene di prodotti Samsung perché piattaforme ad esempio come Amazon sanno che otterranno una percentuale di click maggiore se ci mostreranno il brand Samsung. In poco tempo ci troveremo nella condizione di voler comprare altri prodotti Samsung magari un tablet o un televisore e ci sentiremo così incredibilmente sicuri di aver preso la decisione giusta sostenendo Samsung che non ascolteremo nemmeno le altre opinioni esterne. Se per esempio qualcuno ci dicesse che le tv Samsung non sono le migliori nemmeno lo ascolteremo. Vi rendete conto cosa appena è successo? Abbiamo visto un video casuale su una tematica che ci interessava in cui veniva espressa una preferenza e da quel momento siamo finiti per allontanarci dalle persone con una opinione diversa dalla nostra. Questo avviene perché online vengono filtrate le cose che potrebbero contraddire il nostro modo di pensare e allo stesso tempo veniamo circondati di contenuti che rafforzano le nostre opinioni. Questo avviene di fatto perché le grandi aziende tech che dominano internet ne traggono beneficio. Dovete sapere che quando siamo online noi tutti è come se ci trovassimo in una bolla contenente informazioni ed opinioni e finiamo per essere spinti nella direzione che ci terrà più a lungo sulla piattaforma e che farà guadagnare più soldi a questa azienda. Questo è il motivo per cui le piattaforme di social media si stanno sbarazzando delle singole homepage condivise e di qualsiasi luogo in cui potresti non ottenere contenuti più mirati. Nelle singole homepage dovrebbero mostrarci video generalizzati che è meno probabile che ci piacciono e che quindi ci potrebbero portare a lasciare la loro piattaforma. Abbiamo fatto l'esempio dello smartphone ma questa polarizzazione del pensiero diventa davvero preoccupante quando si parla di tematiche più importanti e delicate come i problemi del mondo reali o le questioni politiche tematiche quali l'aborto, il cambiamento climatico, l'energia nucleare e tantissime altre. Senza che ce ne accorgiamo questo fenomeno sta danneggiando la nostra capacità di vedere altri punti di vista e di scendere a compromessi con le nostre convinzioni. Terza tendenza preoccupante che ho individuato è la propensione alla negatività. Il nostro cervello è programmato per trattare le informazioni negative come più importanti rispetto a quelle positive perché nel passato le informazioni negative avevano maggiore rilevanza per la nostra sopravvivenza. Pensate ad esempio all'arrivo di un predatore che avremmo dovuto immediatamente affrontare per sopravvivere migliaia di anni fa. Questo aspetto del nostro cervello è appurato. Vi assicuro che se io in questo momento pubblicassi due video uno in cui vi dico che AMD sta realizzando ottimi processori ed un altro in cui vi dico che AMD potrebbe fallire quest'ultimo farebbe almeno il doppio delle visualizzazioni. Questo è il motivo per cui la maggior parte delle notizie che leggiamo sui giornali ed online sono negative o comunque ci vengono proposte accentuando gli aspetti negativi di un'informazione. Quindi volendo fare una sintesi il fenomeno delle camere dell'eco tende a polarizzare il nostro pensiero e ci rende meno propensi a considerare altri punti di vista ed in più veniamo spinti verso informazioni tendenzialmente negative. Ma non è finita qui perché il quarto trend di cui vi sto per parlare è ancora più preoccupante. Ossia il falso senso di fiducia che internet ci fornisce. Per capire questo aspetto dobbiamo considerare il cosiddetto effetto Dunning-Kruger. È un fenomeno molto comune in cui le persone sopravvalutano quanto conoscono un argomento di cui in realtà non ne capiscono affatto. Per capire al meglio questo fenomeno basta tracciare un semplice grafico della fiducia. Questo grafico mette in relazione la fiducia delle persone nelle proprie conoscenze rispetto alle loro reali capacità. Il grafico ha la forma di una U perché le persone che non sanno quasi nulla di un argomento pensano che non ci sia quasi nulla da sapere e credono di sapere quello di cui hanno bisogno. Poi ci sono le persone che hanno una conoscenza intermedia di un argomento e che quindi hanno la consapevolezza di non sapere tutto. Ed infine abbiamo gli esperti ossia le persone che conoscono molto bene una determinata tematica. L'effetto Kruger esiste da quando l'umanità ha iniziato ad evolversi. Ma la ragione per cui ne sto parlando adesso è che internet e le camere dell'eco ne amplificano moltissimo la portata. Se mi trovo nella parte sinistra del grafico perché non conosco un argomento particolare ma ho comunque l'impressione di conoscerlo su internet non ci verranno proposti contenuti in grado di migliorare le nostre conoscenze. Se ad esempio credessi che la terra fosse piatta internet non mi mostrerebbe contenuti che contraddicono il mio pensiero perché sarei meno propenso ad interagire con quel contenuto e a vedere pubblicità. Quindi non solo rimarremo ignoranti su quell'argomento ma internet mostrandoci contenuti affini al nostro pensiero ci porterebbe a circondarci solo di altre persone che sono d'accordo con noi. L'effetto collaterale di questo fenomeno è che prenderemo le distanze dalle persone che non sono d'accordo con noi e verrebbero meno tutti quei meccanismi correttivi che esistono in una normale società di persone. Quella in cui gli amici ti dicono che sei stupido o che semplicemente non hai considerato un altro punto di vista. Internet in sintesi evita che ci venga detto che abbiamo torto portandoci verso opinioni o negative o polarizzate su argomenti che non comprendiamo appieno. Internet ci porta anche ad avere un senso spropositato di fiducia sulle nostre opinioni. Ma qual è la conseguenza di tutto questo? Molti di noi inizieranno ad avere opinioni molto nette su qualsiasi argomento o una cosa è nera oppure bianca. Saremo così tanti sicuri di avere ragione su determinati argomenti che saremo infastiditi da chi non la pensa come noi. Se uniamo questo aspetto alla sensazione di insicurezza e di inadeguatezza che ci causano i social media di cui abbiamo parlato prima l'unica conseguenza possibile sarebbe l'isolamento. Il disgusto verso le opinioni contrarie di altre persone combinato con la capacità di ottenere più convalida sociale dalle nostre camere da letto con in mano uno smartphone rispetto che a relazionarci con altre persone ci porta ad isolarci. I servizi internet ed in generale tutti i dispositivi elettronici stanno diventando così bravi a fare cose che abbiamo a malapena bisogno di altre persone. Non abbiamo bisogno della ricetta di mamma per fare una torta in quanto su internet possiamo trovare immediatamente la torta più votata da altre persone. Non abbiamo bisogno di amici per ottenere opinioni in quanto abbiamo gruppi su Facebook che sono fatti su misura per darci le risposte che vogliamo sentire. Non abbiamo bisogno di fermarci a chiedere indicazioni a qualcuno in quanto Google Maps è più affidabile e per lo stesso ragionamento sono sicuro al 100% che un giorno moltissimi dei nostri lavori spariranno. Perché sono così sicuro che questo avverrà nel futuro? Perché per rendere efficiente una persona nelle proprie attività lavorative è richiesto che quest'ultima vada a scuola per una quindicina di anni e magari all'università e che inizia a fare pratica per accumulare esperienza sul campo. Per le macchine questo processo lungo non esiste. Nel momento in cui una macchina diventa in grado di fare lo stesso compito di una persona basta copiare ed incollare i suoi dati in tutte le nuove macchine che verranno prodotte per avere lo stesso livello di efficienza. Vi sto dicendo tutto questo perché l'umanità si sta muovendo verso un futuro in cui il nostro bisogno di vedere e di interagire con altre persone ed il nostro desiderio di relazionarci di persona diminuirà molto. Facciamo degli esempi reali per capire questo aspetto al meglio. Nel corso del 2020 durante un lockdown così come tantissime altre persone mi sono ritrovato con tantissimo tempo libero. Così ho riniziato a giocare online con alcuni vecchi amici. Ci davamo appuntamento ad un orario prestabilito e giocavamo per diverse ore. Chiacchieravamo, parlavamo delle nostre vite e di tante altre cose. E devo dire che con alcuni di questi ho effettivamente avuto alcuni dei momenti più belli mai condivisi della nostra intera amicizia. Ma poi ho notato qualcosa di preoccupante. Quando il lockdown si è concluso e ci era permesso incontrarci di nuovo di persona non ho sentito il bisogno di farlo. Perché avrei dovuto trascorrere mezza giornata nel traffico per essere in grado di avere una conversazione con persone che avrei potuto sentire comodamente da casa mentre giocavo al pc. Un altro esempio perfetto è quello dello shopping online. Lo so, molti di noi continuano a pensare che l'esperienza di acquisto fatta di persona sia imbattibile. Ma se guardi i dati demografici i giovani ora sono dell'opinione che tutti gli acquisti dovrebbero essere fatti online. La prossima generazione di bambini non prenderà nemmeno in considerazione lo shopping di persona in quanto non avrebbe senso per loro. Perché dovrebbero andare in un negozio di persona e dover scorrere centinaia di cose che non vogliono quando possono letteralmente digitare la parola esatta di ciò che stanno cercando ed acquistarla con un click per averla a casa il giorno stesso o quello successivo. Perché dovrebbero voler fare la fila alla cassa e portare in giro le borse della spesa quando possono farle ricapitare a casa lo stesso pomeriggio. Questi sono solo alcuni dei tanti esempi che mi portano a pensare che ci stiamo già iniziando ad isolare. E questo fenomeno può solo peggiorare. L'altra sera sono andato al ristorante e davanti a me c'era un tavolo di giovani ragazzi. Erano tutti seduti attorno allo stesso tavolo ma ognuno guardava il proprio smartphone. Le app che stavano usando in quel momento erano in grado di fornire più valore dei loro amici più cari che erano letteralmente seduti di fronte. Ragazzi questo lo rappresentano la mia opinione ci sono parecchi dati che dimostrano che il tempo trascorso su internet ogni anno aumenta in maniera esponenziale. Visto che il tempo è una risorsa limitata ed è uguale per tutti maggiore tempo passiamo su queste app e il minore sarà quello che trascorreremo nelle relazioni umane fatte di persone. A livello pratico nessuno ci impedisce di incontrare fisicamente altre persone. Ma a livello sociale i luoghi in cui questo avveniva con facilità stanno sparendo. Le riunioni stanno diventando digitali i luoghi di lavoro si stanno ridimensionando ed anche i concerti di musica adesso si cominciano a vedere all'interno di videogiochi invece che nei palazzetti e negli stadi. Ragazzi anche i lanci dei prodotti tech non si fanno più di persona e soprattutto non sono più live. Gli eventi di lancio in realtà sono video pre-registrati dalle aziende e caricati su youtube come se fossero in diretta. Capisco perché le aziende lo fanno. Perché dovrebbero rischiare di sbagliare una presentazione dal vivo fatta davanti a centinaia di persone quando possono pre-registrarla assicurandosi che tutto sia perfetto. Perché le aziende dovrebbero far perdere tempo alle persone costringendole ad impantanarsi nel traffico quando possono farle lavorare comodamente da casa in pantofole. La cosa che mi spaventa è che al di là della pandemia in molti casi siamo noi a scegliere l'isolamento perché la tecnologia lo favorisce rendere i nostri vite più facili meno imbarazzanti e più efficienti. Ma tutto questo signori miei ha un prezzo. Ragazzi se siete arrivati fino alla fine di questo lungo video non posso che ringraziarvi di cuore. Fatemi sapere che ne pensate voi commentando il video e se vi va buttate un occhio anche a quest'altro contenuto. Noi ci vediamo nel prossimo video. Noi ci vediamo nel prossimo video.